A patteggiato davanti al giudice Donatella Banci Buonamici una pena di 10 mesi e 20 giorni con la sospensione condizionale. AM 28 anni algerino arrestato ieri dalla polizia di frontiera di Domodossola. Il suo documento è risultato falso e si era già visto rifiutare il permesso di soggiorno dalla questura di Caserta per aver contratto un matrimonio fittizio con una donna del posto. Presidente dimissionario della proloco di Domodossola Paolo Rossi resterà in carica ancora per un mese. È stato deciso lunedì sera nel corso dell'assemblea del sodalizio. Cercherà di appianare le questioni aperte con l'amministrazione comunale. Manca la convenzione con il comune che è stata deliberata ma non firmata dalla proloco. Non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale rispetto ai motivi, spiega il vice sindaco Angelo Tandurella. Quando si vota è una festa della democrazia, così il direttore della stampa Maurizio Molinari, che ha moderato il dibattito a Verbania sul referendum per il passaggio in Lombardia. Tanta gente per l'occasione nel foyer del Teatro Maggiore. I rappresentanti del sierano Walter Zanetta e Luigi Spadone. Le ragioni del no sono state illustrate da Aldo Reschigna e Silvia Marchionini. Si vota nella giornata di domenica. In arrivo il nuovo mezzo per i pompieri della Valle Vigezzo sarà ordinato entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato il presidente di Fondazione Comunitaria Vicioma, Maurizio De Paoli, nel corso della cerimonia per la donazione di 10.000 euro da parte del Rotary Club Parlanza Stresa al Fondo Soccorso Sicuro, il primo dei nuovi mezzi necessari per il rinnovo dei camion in dotazione ai pompieri volontari del VCO. Ricomincio da me. È il progetto dedicato ai ragazzi delle scuole che è stato presentato al Grand Hotel Majestic di Verbania. Obiettivo è, attraverso l'orientamento, aiutare i giovani a scegliere il proprio futuro, saranno coinvolti i laboratori sul campo grazie alla collaborazione con importanti realtà del territorio, accanto al Majestic, l'Unione Industriale e i giardini di Villa Taranto e Alessi.